Un vivo che è riuscito a portare con la sua fantasia la sua creatività, la sua innovazione delle cose straordinarie. È un atleta che è riuscito a ottenere due medaglie olimpiche, ma è un atleta che è stato tantissime volte sul polio, sia ai campionati mondiali che ai campionati europei. Un atleta che è conosciuto il mondo per la fantasia e per altri passaggi che ha inventato le vende che porta di solito. Quindi signore e signori, sulle notte di me è fatta tornare alla Francesco Rega e dopo i Filippo Candelano! Filippo! Che fai? Filippo! Candelano, togliamosi, togliamosi. Come mai stai qui sul falco? Scalzi soprattutto? Niente scala. Ti faccio un regalo, guarda, c'è un cosiddetto per te, sì? E per te, vai! E per te, vai! Con dei vatti, li vedi? Così? 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 No, no, no. Che cosa vuoi che sia l'amore se mi lasci stare anche solo? Perché io ti guardo solo, io non so mai Che cosa dite, fate tornare a me C'è stato un tempo in cui credo che Che riuscire a noi fosse semplice Invece no, sono qui Che riuscire a me Che riuscire a me Che riuscire a me Che cosa vuoi che sia l'amore 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti